Ehi tu! Sì sì sì, proprio tu, proprio tu. Sei stanco di riuscire a vincere più le tue partite su Fortnite? Beh, lo vedo, lo vedo. Sai, potrei darti davvero dei bei consigli per evitare di sclerare così come stai facendo ora. Sei pronto? Vuoi sentirli? Allora, il primo di questi è... Cerca di allenarti tanto. Oppure bro, invece di allenarti e allenarti e allenarti, potresti semplicemente con un piccolo passaggio diventare invincibile. Ovvero andare nel negozio oggetti e mettere il codice creatore migliore al mondo, ovvero quello di Refiz. Esatto ragazzuoli, finalmente l'abbiamo sbloccato, non vedevo l'ora, è passato tantissimo da quando faccio video di Fortnite. E ora finalmente abbiamo il codice creatore Refiz. Ragazzi, cosa posso dire di questa cosa? Sono davvero davvero molto emozionato e io spero che più di voi possibili lo utilizzeranno. Io vi aspetto di già, ve lo dico di già ragazzi, oltre che stasera in live per guardarci insieme all'evento ovviamente. Venerdì prossimo invece in live dove faremo un bellissimo server privati. In palio però ci sarà una skin per chi vincerà ragazzi, io vi dico solo questo, ci sarà un premio per chi vincerà del server privato. Ragazzi, grazie di cuore tutti voi, questo è anche grazie a voi. Ragazzi, detto questo io non voglio rubarvi altro tempo, il video di oggi è cortissimo, brevissimo, era per annunciarvi l'arrivo del codice creatore Refizzone. Nel tutto questo ragazzi noi ci becchiamo stasera in live, grazie mille ancora raga. Utilizzatelo più che potete ragazzi per dimostrarmi tutto il vostro supporto e se volete anche darmi più supporto potete iscrivervi al canale attivando la campanellina. Nel tutto questo ragazzi ci becchiamo stasera in live, let's go! Grazie a tutti!